Ho partecipato ad Ecoformazione nel 2021. È stata un'edizione speciale perché sono stati giorni molto intensi a livello di contenuti, ma anche a livello di relazioni. Eravamo tanti, credo 20 o 30 se non ricordo male, da tutta Italia, ognuno con la propria specializzazione, ma in quel momento eravamo tutti uniti da un'energia speciale che si è creata in quei giorni, che non ho smesso di definire ancora oggi magia. Mi porto a casa molti esercizi che ho potuto usare immediatamente nelle attività che poi ho deciso di fare da sola nel mio territorio. E mi porto a casa anche molte relazioni con le persone che partecipavano al seminario, che continuano ancora oggi. E delle collaborazioni che ho instaurato con alcuni che mi danno veramente ricchezza nella mia professione, ma anche nella mia persona. Quindi consiglio a tutti di provare questa emozione, un'emozione che dura quattro giorni. La professionalità delle formatrici è stata impeccabile e molto molto equilibrata, quindi lo consiglio, andateci.